Capitolo 27 Coriolanus osservò attentamente la zona, cercando di nascondere l'ansia crescente. Dov'era Sejanus? L'adrenalina lottava contro il liquore bianco per assumere il controllo del suo cervello. Era stato così preso dalla musica e dall'alcol che non aveva idea di quando Sejanus fosse sparito. E se non avesse cambiato idea riguardo a Lille, che in quello stesso istante fosse là fuori, in mezzo alla calca, a cospirare con i ribelli. Aspettò che il pubblico finisse di applaudire Maud Ivory e Lucy Gray prima di alzarsi, e proprio mentre cominciava a farsi strada verso la porta, nella luce indistinta vide tornare Sejanus. Dove sei stato? Gli chiese. Fuori. Quell liquore bianco mi fa pisciare in continuazione. Sejanus si accomodò sulla cassa e rivolse la sua attenzione al palcoscenico. Anche Coriolanus riprese posto. Gli occhi sullo spettacolo, i pensieri altrove. Il liquore bianco non faceva quell'effetto a nessuno. Era troppo forte e la quantità consumata troppo esigua. Un'altra bugia. Cosa significava? Che adesso non poteva perdere d'occhio Sejanus neanche per un secondo? Per tutto il resto dello spettacolo, continuò a lanciargli occhiati in tralice per assicurarsi che non se la svignasse un'altra volta. Gli rimase vicino dopo che Maud Ivory ebbe raccolto i soldi nel cestino decorato di nastrini, ma Sejanus parve concentrato ad aiutare Bug nell'impresa di riportare Pertica, ubriaco, alla base. Non si presentò l'occasione giusta per approfondire l'argomento. Se in effetti Sejanus era sgattaiolato via per tramare qualcosa con i ribelli, lo scontro diretto avuto con Coriolanus subito dopo l'incidente di Billy Top non aveva funzionato. Serviva una nuova strategia. La domenica ebbe inizio con troppa luce per la testa pulsante di Coriolanus. Vomitò il liquore bianco e restò nella doccia finché i suoi occhi non tornarono a mettere a fuoco nel modo corretto. Le uova unte della salamensa erano improponibili, quindi piluccò il pane tostato mentre Sejanus finiva entrambe le loro porzioni, a conferma dei sospetti di Coriolanus. La sera prima non aveva praticamente toccato un goccio d'alcol e comunque non abbastanza ad avere urgenza di andare a pisciare. I loro tre compagni di camerata non erano nemmeno riusciti ad alzarsi per fare colazione. Finché non gli fosse venuta in mente un approccio migliore, avrebbe dovuto sorvegliarlo come un falco, specie quando uscivano dalla base. Quel giorno comunque avrebbe avuto bisogno di un compagno per andare al lago. Anche se l'entusiasmo di Coriolanus si era affievolito, Sejanus accettò allegramente l'invito. Certo, sembra quasi una vacanza, prendiamo un po' di ghiaccio. Mentre Sejanus convinceva Cucchi a dar loro un'altra busta di plastica, Coriolanus andò in ambulatorio a cercare un'aspirina. Si ritrovarono al posto di guardia, dopodiché si misero in cammino. Non conoscendo una scorciatoia per arrivare al giacimento, tornarono alla piazza e ripercorsero la strada della settimana precedente. Coriolanus pensò di tentare un'altra chiacchierata a cuore aperto con Sejanus, ma se la minaccia di essere scoperto non lo aveva smosso, cosa lo avrebbe fatto? E poi Coriolanus non sapeva con certezza se avesse cospirato con i ribelli. Magari era vero che la sera prima aveva semplicemente avuto bisogno di fare una pisciata, nel qual caso accusarlo lo avrebbe solo messo sulla difensiva. L'unica prova concreta era il denaro nascosto, ma forse era stato strabo a insistere perché il figlio lo prendesse e tuttavia Sejanus non aveva alcuna intenzione di farne uso. Non dava valore al denaro ed era probabile che considerasse quello ricavato dalle munizioni come qualcosa di opprimente. Poteva darsi che per lui fosse un punto d'onore guadagnarselo da solo. Se Lucy Gray era ancora arrabbiata per il loro battibecco, non lo diede a vedere. Lo accolse sulla porta posteriore con un bacio e un bicchiere d'acqua fredda per aiutarlo ad affrontare la scarpinata fino al lago. Ci vogliono due o tre ore, dipende dai rovi, ma ne vale la pena. Per una volta i covi abbandonarono i loro strumenti. Barbazor rimase a casa per tenere tutto sotto controllo. Li mandò via con un secchio che conteneva una brocca d'acqua, una pagnotta e una vecchia coperta. Ha appena cominciato a vedersi con una tizia che abita lungo la via, confidò Lucy Gray quando furono lontani. Saranno felici di avere la casa tutta per loro e per tutta la giornata. Tam Ember li guidò attraverso il prato e nel bosco. Clerc Carmine, Modaivori e Seianus si accodarono a lui, lasciando Lucy Gray e Coriolanus nelle retrovie. Non c'erano sentieri. In fila indiana scavalcarono alberi caduti, scostarono rami, cercarono di aggirare i cespugli spinosi che spuntavano dal sottobosco. Dopo dieci minuti, del distretto dodici non rimase nulla, a parte l'odore acre delle miniere. Dopo venti, anche quello era stato avvolto dalla vegetazione. Le chiome degli alberi offrivano riparo dal sole, ma ben poco sollievo dalla calura. Il ronzio degli insetti, lo squittio ciarliero degli scoiattoli e il canto degli uccelli, che parevano non essere disturbati dalla loro presenza, riempivano l'aria. Anche con due giorni di servizio volatile all'attivo, Coriolanus provava una diffidenza crescente a mano a mano che si allontanavano da quella che lì passava per civiltà. Si chiese quali altri creature, più grandi, più forti e dotate di zanne, potessero annidarsi tra gli alberi. Non era armato e, quando se ne accorse, finse di aver bisogno di un bastone da passeggio e si fermò un attimo per spogliare un robusto ramo caduto dei ramoscelli in eccesso. «Come fa a conoscere la strada?» chiese a Lucy Gray, accennando a Tam Ember. «La conosciamo tutti», rispose lei, «è la nostra seconda casa». Visto che nessun altro si mostrava preoccupato, Coriolanus continuò a seguire il gruppo per quella che gli parve un'eternità e fu felice quando Tam Ember si fermò, ma solo per dire «Siamo circa a metà strada». Si passarono la busta con il ghiaccio, bevendo quello che si era sciolto e succhiando i cubetti rimasti. Muda Evory si lamentò di avere male a un piede e si sfilò la scarpa marrone piena di buchi per mostrare una vescica piuttosto grande. «Queste scarpe non vanno bene per camminare». «È un vecchio paio di clerk Carmine, stiamo provando a fargli superare l'estate», spiegò Lucy Gray, esaminando il piedino con una smorfia. «Sono troppo strette», disse Muda Evory. «Io voglio delle scatole di aringhe, come nella canzone». Sejanus si accovacciò, offrendole la schiena. «Cosa ne diresti di un passaggio, invece?» Muda Evory gli si arrampicò sulle spalle. «Stai attento alla mia testa!» Così, una volta stabilito il precedente, fecero a turno per trasportare la bambina. Non dovendosi più sforzare a camminare, Muda Evory decise di usare i polmoni per cantare. Là nel Canyon, nel lontano 836, c'è ancora un omettino con la figlia Clementine. Era lieve come fata. Le scarpette, oi me, oi me, erano scatole da ringhe, numero 53. Con grande sgomento di Coriolanus, una ghiandaia imitatrice riprese la melodia dall'alto dei rami. Non si era aspettato che fossero arrivate così lontano. Quei mostriciattoli stavano davvero infestando i boschi. Muda Evory, invece, ne fu entusiasta e continuò a fare baccano. Coriolanus la trasportò per l'ultimo tratto e la distrasse ringraziandola per la canzone della sera prima. «Cosa ne pensi?» chiese la piccola. Lui evitò la domanda. «Mi sei piaciuta moltissimo! Sei stata fantastica!» «Grazie, ma io parlavo della canzone. Credi che la gente veda sul serio lo segrei o che la sogni soltanto?» disse. «Perché io penso che la vedono sul serio, solo che adesso lei vola come un uccello». «Tu dici». Coriolanus si consolò nel constatare che quella canzone così enigmatica era quantomeno oggetto di discussione e che lui non era troppo ottuso per afferrarne l'adotta interpretazione. «Beh, come fa se no a non lasciare impronte?» rispose. «Secondo me lei vola e cerca di non incontrare le persone, che altrimenti la ucciderebbero perché è diversa». «Sì che è diversa! È un fantasma, zuccona!» disse Clerc Kermain. «I fantasmi non lasciano impronte perché sono come l'aria». «Allora dov'è il suo corpo?» chiese Coriolanus, pensando che la versione di Muda Evory avesse almeno un qualche senso. «È caduta dal ponte ed è morta, solo che è finita così in fondo che nessuno riusciva a vederla». «O forse c'era un fiume che l'ha portata via», rispose Clerc Kermain. «Comunque è morta e adesso infesta la zona. Come fa a volare senza ali?» «Non è caduta dal ponte. La neve dove si era fermata sarebbe calpestata», insistemo d'Eivory. «Lucy Gray, com'è andata?» «È un mistero, tesoro. Proprio come me». «Ecco perché è la mia canzone», rispose Lucy Gray. Quando finalmente arrivarono al lago, Coriolanus aveva il fiato corto, moriva di sete e lo sfogo sulla pelle bruciava per il sudore. Quando i covi si spogliarono, togliendosi tutto tranne la biancheria, e si tuffarono in acqua, non perse tempo e li seguì. Si allontanò un po' dal gruppo con qualche bracciata e l'acqua fresca lo avvolse, schierendogli le idee e dando sollievo all'irritazione. Nuotava bene. A scuola glielo avevano insegnato fin da piccolo, ma non aveva mai provato a farlo da nessuna parte se non in piscina. Il lago fangoso scendeva in fretta, aveva la sensazione che l'acqua fosse profonda. Andò più a largo e si mise a fare il morto, osservando il paesaggio. I boschi si innalzavano tutto intorno e, anche se non sembrava ci fosse una via d'accesso, piccole case malmesse punteggiavano la sponda. Quasi tutte erano danneggiate in modo irreparabile, ma una costruzione di cemento dall'aspetto solido aveva ancora il tetto e una porta ben chiusa a respingere gli animali e la natura. Una famigliola di anatre sguazzava a qualche metro di distanza e lui riusciva a scorgere dei pesci sotto le dita dei piedi. La preoccupazione riguardo a cos'altro potesse nuotare lì dentro, gli suggerì di tornare a riva, dove i covi avevano già trascinato Sejanus in una specie di partita a Torello. Disposti in cerchio, si passavano una grossa pigna usata come palla, cercando di non farsela rubare dal giocatore che stava nel centro. Coriolanus si unì a loro, contento di poter fare qualcosa solo per divertimento. Lo sforzo di essere ogni giorno un adulto, a tutti gli effetti, era diventato stancante. Dopo una rapida prova, Tamember fabbricò un paio di canne da pesca con due rami, ai quali attaccò un filo e degli ami fatti in casa. Mentre Clerc Carmine scavava in cerca di vermi, Modaivori arruolò Sejanus per raccogliere more. «State lontani da quel punto vicino alle rocce», avvertì Lucy Gray. «Ai serpenti piace». «Sa sempre dove si trovano», disse Modaivori a Sejanus mentre lo conduceva via. «Lei li prende tra le mani, ma a me fanno paura». La distribuzione delle incombenze lasciò Coriolanus e Lucy Gray a raccogliere legna secca per un fuoco. Tutta la situazione lo emozionava un po'. La nuotata seminudo tra creature selvatiche, la preparazione di un falò all'aria aperta, il tempo non preventivato con Lucy Gray. Lei aveva una scatola di fiammiferi, ma i fiammiferi erano costosi, perciò disse che avrebbe dovuto arrangiarsi con uno solo. Quando la fiamma attecchì in mezzo a un mucchio di foglie secche, Coriolanus sedette per terra vicino a lei, e insieme alimentarono il fuocherello, prima con i rametti, poi con pezzi di legno più grossi. Era felice di essere vivo più di quanto non fosse da settimane. Lucy si appoggiò alla sua spalla. «Senti, mi dispiace se ti ho fatto arrabbiare ieri sera. Non intendevo incolpare te per la morte di mio padre. Eravamo tutti e due solamente dei bambini quando è successo. Lo so. A me dispiace di aver esagerato. È solo che non posso fingere di essere chi non sono. Non concordo con tutto quello che fa Capital City, ma vengo da lì, e nel complesso ritengo che abbiamo ragione sul bisogno di ordine», disse Coriolanus. «I Kovic credono che siamo sulla terra per ridurre la sofferenza, non per aumentarla. Pensi che gli Hunger Games siano giusti?» chiese. «A essere sincero, non so nemmeno perché li organizziamo. Ma penso davvero che la gente stia dimenticando troppo in fretta quello che abbiamo fatto gli uni agli altri, quello di cui siamo capaci, sia nei distretti sia a Capital City. So che qua giù dobbiamo dare l'impressione di essere duri. Ma cerchiamo solo di tenere sotto controllo le cose. Altrimenti sarebbe il caos, con le persone che corrono di qua e di là per uccidersi, come nell'arena». Era la prima volta che tentava di esprimere quei pensieri a parole, e con qualcuno che non fosse la dottoressa Goal. Si sentiva un tantino malfermo, come un bimbo che impara a camminare, ma si sentiva anche indipendente per essersi alzato in piedi. Lucy Gray si ritrasse un po'. «È questo che farebbe la gente, secondo te?» «Sì. Senza la legge, e qualcuno che la faccia rispettare, penso che potremmo benissimo essere degli animali», disse con più sicurezza. «Volenti o capital city è l'unica cosa che tiene tutti al sicuro». «Quindi loro mi tengono al sicuro. E io a cosa devo rinunciare, in cambio?» chiese. Coriolanus smosse il fuoco con un bastoncino. «Rinunciare? Beh, a niente». «I covi hanno dovuto farlo, invece», ribatte lei. «Non possono viaggiare. Non possono esibirsi senza autorizzazione. Possono cantare solo certi tipi di canzoni. Resisti all'arresto e ti sparano, come è successo a mio padre. Cerca di tenere unita la famiglia e ti spaccano la testa, come è successo a mia madre. E se io lo ritenessi un prezzo troppo alto da pagare? Forse la mia libertà vale il rischio». «Quindi i tuoi erano dei ribelli, dopo tutto». Coriolanus non era molto sorpreso. Per prima e ultima cosa, i miei erano covi», affermò Lucy Gray. «Non abitanti dei distretti. Non cittadini di Capital City. Non ribelli. Non pacificatori. Solo noi stessi. E tu sei come noi. Vuoi pensare con la tua testa? Ti metti di traverso. Lo so per via di quello che hai fatto per me nei giochi». Beh, su questo aveva ragione. Se Capital City riteneva necessari gli Hunger Games, e lui aveva tentato di ostacolarli, non aveva forse contestato la sua autorità? Si era messo di traverso, come diceva lei. Non con un gesto di aperta sfida come Sejanus, ma nel modo più silenzioso e scaltro che gli era proprio. «Ecco quello che credo io. Se a comandare non fosse Capital City, io e te non saremmo neppure qui a fare questa conversazione, perché ci saremmo già uccisi da un pezzo». «Le persone sono state per tanto tempo senza Capital City. Mi aspetto che rimarranno in circolazione a lungo anche dopo», concluse Lucy Gray. Coriolanus pensò alle città morte che aveva oltrepassato lungo il tragitto per il distretto 12. Lei sosteneva che i covi avevano viaggiato, quindi doveva averle viste. «Ma non saranno molte quelle persone. Un tempo Panem era splendido. Guardalo ora». Clerk Carmine portò a Lucy Gray una pianta che aveva raccolto dal lago, con foglie appuntite e piccoli fiori bianchi. «Ehi, hai trovato un po' di Katniss, l'erba saetta. Ottimo lavoro, sì sì». Coriolanus si chiese se dovesse considerarla decorativa, come le rose della signora nonna, ma Lucy Gray esaminò subito le radici dalle quali pendevano alcuni piccoli tuberi. «E' ancora un po' troppo presto». «Già», ammise Clerk Carmine. «Per cosa?» chiese Coriolanus. «Per mangiarla. Tra qualche settimana questi tuberi cresceranno fino a diventare patate di dimensioni accettabili e noi potremmo arrostirle», rispose Lucy Gray. «Alcuni le chiamano patate di palude, ma io preferisco Katniss. Ha un bel suono». Comparve Tamember con molti pesci che aveva già pulito e tagliato a pezzi. Li avvolse con alcune foglie e ramoscelli di una qualche erba che aveva raccolto, e Lucy Gray li dispose tra le bracci del fuoco. Quando Modaivori e Sejanus arrivarono con il secchio pieno di more, il pesce era cotto a puntino. Tra la camminata e la nuotata, a Coriolanus era tornato l'appetito. Spazzolò la sua porzione di pesce, pane e more. Poi Sejanus sfoderò la sorpresa. Cinque o sei biscotti di ma, la sua quota del pacco. Dopo pranzo stesero la coperta sotto gli alberi. Alcuni si sdraiarono, altri sedettero appoggiandosi ai tronchi, e tutti rimasero a guardare le nuvole, soffici e leggere, nel cielo luminoso. Non ho mai visto un cielo così, osservò Sejanus. Così azzurro, come Barb Azor, gli disse Modaivori. Quello è il suo colore. Il suo colore? chiese Coriolanus. Certo, tutti noi prendiamo il primo nome da una ballata e il secondo da un colore. Saltò in piedi per spiegare il concetto. Barb viene da Barbara Allen, e Azor, azzurro, come il cielo più sereno. Io sono Maud Claire e Ivory, avorio, come i tasti del pianoforte. E Lucy Gray è speciale, perché tutto il suo nome viene dalla sua ballata. Lucy e Gray, grigio. Giusto, grigio come un giorno d'inverno, disse Lucy Gray con un sorriso. Coriolanus non aveva mai notato il collegamento. Aveva solo pensato che avessero nomi bizzarri da Covi. Ivory e Amber lo facevano pensare a vecchi monili nel portagioie della signora nonna. Azor, Taup e Carmine non li aveva associati ai colori. Quanto alle loro ballate, chissà da dove erano venute. Gli pareva un modo ben strano di dare un nome a un figlio. Il tuo nome sembra Covi, rise Maud Ivory, piantandogli un dito nella pancia. Perché? È per via della parte con la neve, Snow, bianco come la neve, ridacchiò la bambina. C'è una ballata con dentro un Coriolanus. Non che io sappia. Perché non ne scrivi tu una su di me? Le suggerì, restituendole la ditata sulla pancia. La ballata di Coriolanus Snow. Maud Ivory gli si sedette sullo stomaco. E Lucy Gray, la scrittrice, perché non lo chiede a lei? Smettila di dargli fastidio. Lucy Gray attirò Maud Ivory al suo fianco. Forse dovresti fare un pisolino prima che torniamo a casa. Tanto mi porteranno in braccio gli altri, disse la piccola, divincolandosi per liberarsi. E io canterò per loro. Oh mia cara, oh mia cara. Ah, chiudi il becco, esclamò Clerk Carmine. Forza, prova a metterti giù a riposare, disse Lucy Gray. Beh, lo faccio se tu canti per me. Cantami quella di quando avevo la tosse. Si distese, la testa sulle ginocchia di Lucy Gray. Va bene, ma solo se stai zitta. Lucy Gray le infilò i capelli dietro l'orecchio con una carezza e aspettò che si calmasse prima di cominciare a cantare dolcemente. Là in fondo al prato, all'ombra del pino, c'è un letto d'erba, un soffice cuscino. Il capo tuo posa e chiudi gli occhi stanchi. Quando li riaprirai, il sole avrai davanti. Qui sei al sicuro. Qui sei al calduccio. Qui le margherite ti proteggon da ogni cruccio. Qui sogna dolci sogni che il domani farà avverare. Qui è il luogo in cui ti voglio amare. La canzone placò Modaivori e Coriolanus sentì le preoccupazioni dissolversi. Con lo stomaco pieno di cibo fresco, l'ombra degli alberi. Lucy Gray, che cantava piano accanto a lui, cominciò ad apprezzare la natura. Era davvero bellissimo lì. L'aria cristallina, i colori intensi. Si sentiva libero e rilassato. E se fosse stata quella la sua vita? Alzarsi quando voleva? Procurarsi il cibo per la giornata e stare con Lucy Gray in riva al lago? Chi aveva bisogno di ricchezza, successo e potere quando aveva l'amore? Non trionfava su tutto l'amore? Là in fondo al prato, nel folto celato, c'è un manto di foglie, di luna illuminato. Scorda le angustie, le pene abbandona. Quando verrà mattina, spariranno a una a una. Qui sei al sicuro. Qui sei al calduccio. Qui le margherite ti proteggon da ogni cruccio. Qui sogna dolci sogni che il domani farà avverare. Qui è il luogo in cui ti voglio amare. Coriolanus era sul punto di appisolarsi, quando le ghiandaie imitatrici, che avevano ascoltato con grande rispetto l'interpretazione di Lucy Gray, ne iniziarono una tutta loro. Sentì i muscoli dell'intero corpo che si tendevano, mentre quella piacevole sonnolenza lo abbandonava. Ma i covi sorrisero felici alle ghiandaie che se ne andavano con la loro canzone. «Noi stiamo a loro come la pietra sta ai diamanti», disse Tamember. «Beh, loro fanno più esercizio», osservò Clerc Carmine, e gli altri scoppiarono a ridere. Ascoltando gli uccelli, Coriolanus notò l'assenza delle ghiandaie chiacchierone. L'unica spiegazione che gli veniva in mente era che le ghiandaie imitatrici avessero cominciato a riprodursi senza le chiacchierone, o tra di loro o con i mimi del posto. L'eliminazione degli uccelli di Capitol City dall'equazione lo infastidiva profondamente. Eccole lì, quelle bestiacce, che si moltiplicavano come conigli senza il minimo controllo, senza un'autorizzazione, con il coinvolgimento della tecnologia di Capitol City. Non gli piaceva neanche un po'. Alla fine, Modaivori si mise a dormicchiare, raggomitolata contro Lucy Gray, la coperta grovigliata intorno ai piedi nudi. Coriolanus rimase con loro due, mentre gli altri tornavano a fare un tuffo nel lago. Poco dopo, Clerc Carmine portò lì una piuma blu acceso che aveva trovato lungo la sponda, e la posò sulla coperta per Modaivori, dicendo in tono burbero, «Non dirle da dove viene». «D'accordo, che cosa dolce, sì sì», disse Lucy Gray. «Le piacerà moltissimo». Quando lui corse di nuovo verso l'acqua, lei scosse la testa. «Sono preoccupata per lui. Sente la mancanza di Billy Tobe». «E tu?» Coriolanus si tirò su appoggiandosi a un gomito per osservarla in viso. Lei non esitò. «No, dalla mietitura non più». «La mietitura», ricordò la ballata che aveva cantato all'intervista. «Cosa intendevi quando hai detto di essere la scommessa che ha perso nella mietitura?» «Aveva scommesso che avrebbe potuto averci tutte e due, me e Mayfair», rispose. «Era un rischio. Mayfair ha scoperto la mia esistenza, io ho scoperto la sua. Poi lei ha fatto in modo che suo padre chiamasse il mio nome alla mietitura». «Non so cosa gli abbia raccontato. Di certo non che aveva una storia con Billy Tobe? Qualcos'altro. Siamo degli estranei qui, perciò è facile mentire su di noi». «Mi sorprende che stiano insieme», commentò Coriolanus. «Beh, Billy Tobe non fa che ripetere che è più felice da solo, ma quello che vuole davvero è una ragazza che si prenda cura di lui. Immagino che Mayfair gli sia sembrata una candidata plausibile per quel lavoro, quindi lei ha corso dietro. Nessuno sa usare il proprio fascino come Billy Tobe. Quella ragazza non aveva scampo. E poi deve sentirsi sola. Non ha fratelli o sorelle, non ha amici. I minatori detestano i suoi genitori, che vengono ad assistere alle impiccagioni con la loro auto vistosa». Modaivori si agitò e Lucy Gray le lisciò i capelli. «La gente guarda noi con diffidenza, ma loro li disprezza». A Coriolanus non piaceva il modo in cui si era affievolita la sua rabbia nei confronti di Billy Tobe. «E vorrebbe tornare con te?». Lei raccolse la piuma e se la rigirò tra pollice e indice prima di rispondere. «Ah, certo, ieri è venuto al prato. Grandi progetti. Vuole che lo incontri all'albero degli impiccati per scappare insieme». «All'albero degli impiccati?». Coriolanus pensò a darlo che dondolava piano, mentre gli uccelli facevano il verso alle sue ultime parole. «Perché proprio lì?». «E dove andavamo sempre?». «L'unico posto del distretto 12 in cui si è garantita un po' di privacy», rispose. «Vole che andiamo a nord. Crede che lassù ci sia più gente. Gente libera. Dice che la troveremo e poi torneremo qui a prendere gli altri». «Sta accumulando provviste, non so bene con quali soldi. Ma che importanza ha? Non riuscirò mai più a fidarmi di lui». Coriolanus sentì la gelosia chiudergli la gola. Pensava che lei avesse allontanato Billy Top per sempre. Ed ecco che adesso gli raccontava con aria indifferente di un incontro casuale nel prato. Solo che non era stato un caso. Sapeva benissimo dove trovarla. Per quanto tempo erano rimasti lì, con lui che sfruttava il suo fascino per spingerla a fuggire. Perché si era fermata ad ascoltarlo? La fiducia è importante. Credo sia persino più importante dell'amore. Voglio dire, io amo un sacco di cose di cui non mi fido. I temporali, il liquore bianco, i serpenti. A volte penso di amarle proprio perché non posso fidarmi di loro. Che razza di confusione c'è nella mia testa, eh? Lucy Gray fece un respiro profondo. «Però di te mi fido». Coriolanus intuì che quella era un'ammissione difficile per lei. Forse anche più di una dichiarazione d'amore. Ma non cancellò l'immagine di Billy Top che la corteggiava nel prato. «Perché? Perché?» «Beh, dovrò pensarci un po' su». Quando lo baciò, Coriolanus rispose al bacio, ma senza molta convinzione. Quei nuovi sviluppi lo rendevano inquieto. Forse stava commettendo un errore ad affezionarsi a lei. E c'era qualcos'altro che lo infastidiva. La canzone che aveva suonato nel prato quel primo giorno. Allora aveva pensato che si riferisse all'esecuzione, ma parlava anche di incontrarsi all'albero degli impiccati. Se quello era il loro vecchio punto di ritrovo, perché lo nominava ancora nella sua canzone? Forse lo stava solo usando per riavere Billy Top, mettendoli l'uno contro l'altro. Modaivori si svegliò e ammirò la piuma, che si fece fissare tra i capelli da Lucy Gray. Si prepararono per rientrare a casa. Raccolsero la coperta, la brocca e il secchio. Coriolanus si offrì volontario per portare la bambina nel primo tratto di camminata. Quando ebbero lasciato il lago, fece in modo di rimanere indietro per chiederle. «Allora? In questi giorni lo vedete ancora, Billy Top?» «Oh no!» rispose la piccola. «Non è più uno di noi». Questo gli faceva piacere, ma suggeriva anche che Lucy Gray avesse tenuto nascosta ai covi il suo incontro con lui, il che lo rese di nuovo sospettoso. Modaivori si chinò sul suo orecchio e sussurrò. «Non lasciare che giri intorno a Sejanus. Lui è gentile, e Billy Top si nutre delle persone gentili». Coriolanus avrebbe scommesso che si nutriva anche di soldi, altrimenti come poteva pagare le provviste per la sua fuga? Tamember prese una strada un po' diversa, deviando verso punti in cui crescevano cespugli di more, in modo da poter riempire il secchio lungo il cammino. Quando ormai erano quasi arrivati all'abitato, Clerc Carmine scorse un albero carico di mele che cominciavano giusto a maturare. Tamember e Sejanus proseguirono, caricandosi Modaivori e le altre cose. Clerc Carmine si arrampicò sull'albero e lanciò giù le mele che Coriolanus ammocchiò nella gonna di Lucy Gray. Era tardo pomeriggio quando raggiunsero la casa. Coriolanus era stanchissimo e pronto a tornare alla base, ma Barb Hazor era sola al tavolo in cucina, impegnata a fare la cernita delle more. Tamember ha portato Modaivori al forno per vedere se riusciva a barattare un po' di scarpe. Gli ho detto io di farlo e di procurarsi delle scarpe calde, perché farà freddo prima che ce lo aspettiamo. E Sejanus? Coriolanus guardò nel cortile sul retro. Se n'è andato qualche minuto dopo. Ha detto che vi sareste visti là, rispose lei. Il forno. Coriolanus si affrettò a salutare. Devo andare. Se trovano Sejanus là senza un altro pacificatore, gli faranno rapporto. Anche a me, peraltro. Dobbiamo essere in due, e lui lo sa. Non so cosa gli passi per la testa. Ma in effetti sapeva esattamente cosa passava per la testa di Sejanus. Che occasione fantastica per andare al forno senza Coriolanus che lo sorvegliava. Attirò a sé Lucy Gray per un bacio. Oggi è stato magnifico. Grazie. Ci vediamo sabato prossimo al capanno? Schizzò fuori prima che lei potesse rispondergli. Camminò a passo svelto, dritto fino al forno, e guardò dentro dalla porta aperta. C'erano cinque o sei persone che studiavano la roba esposta sulle bancarelle. Modaivori era seduta su una botte, mentre Tamember le allacciava uno scarponcino. Dalla parte opposta del deposito, Sejanus era in piedi davanti a un bancone, impegnato a parlare con una donna. Mentre si avvicinava, Coriolanus prese nota della mercanzia della donna. Lampade da minatore, picconi, asce, coltelli. All'improvviso capì cosa poteva comprare Sejanus con tutti quei soldi di Capitol City. Armi. E non solo quelle disposte davanti a lui. Poteva comprare fucili. Quasi a conferma dei loschi traffici, la donna smise di parlare non appena lui arrivò a portata di orecchio. Sejanus si allontanò dal bancone e lo raggiunse. Spese? Chiese Coriolanus. Pensavo di procurarmi un coltellino, rispose Sejanus, ma in questo momento non ce ne sono. Perfetto. Molti soldati avevano dei coltellini. Fuori servizio ci facevano persino un gioco in cui puntavano denaro su chi avrebbe colpito un bersaglio. Pensavo di prenderne uno anch'io, quando ci pagano. Certo, quando ci pagano, concordò Sejanus, come se fosse sottinteso. Reprimendo l'impulso di dargli un pugno, Coriolanus uscì dal forno a grandi passi, senza uno sguardo a Modaivori e Tamember. Sulla via del ritorno quasi non parlò mentre rivedeva la sua strategia. Doveva scoprire in cosa era coinvolto Sejanus. Con la logica, non era riuscito a guadagnarsi la sua fiducia. Creare un momento di intimità avrebbe funzionato? Provarci non avrebbe fatto male a nessuno. A qualche isolato dalla base, si fermò posando una mano sulla spalla dell'altro. Sai, Sejanus, sono tuo amico. Più che amico. Tu sei quanto di più simile a un fratello io abbia mai avuto. E in una famiglia ci sono regole speciali. Se ti serve aiuto, cioè se finisci in qualcosa che poi non sai come gestire, io sono qui. Gli occhi di Sejanus si riempirono di lacrime. Ti ringrazio, Corio. Significa molto per me. Forse tu sei l'unica persona al mondo di cui mi fido davvero. Di nuovo con la fiducia, l'aria ne era piena. Vieni qui. Attirò Sejanus in un abbraccio. Promettimi solo di non fare niente di stupido, d'accordo? Lo sentì annuire, ma sapeva che le probabilità che mantenesse quella promessa erano praticamente nulle. Perlomeno, gli innumerevoli impegni che ebbero nei giorni seguenti gli permisero di mantenere Sejanus sotto controllo costante, anche fuori dalla base. Lunedì pomeriggio recuperarono di nuovo le trappole dagli alberi. Per quanto non fossero state toccate per tutto il weekend, neanche una conteneva una ghiandaia imitatrice. Contro ogni aspettativa, la dottoressa Kay sembrò soddisfatta. Pare che gli uccelli abbiano ereditato più di una mimica estremamente sofisticata. Hanno sviluppato anche le loro capacità di sopravvivenza. Non stiamo a riposizionare le gabbie. Abbiamo ghiandaie e chiacchierone in abbondanza. Domani proveremo con le reti a velo. Quando i soldati scesero dai camion, mercoledì mattina, i ricercatori avevano già scelto i punti di maggior passaggio delle ghiandaie imitatrici. Si divisero in gruppi, Coriolanus e Bug ancora con la dottoressa Kay, e aiutarono a piantare alcune serie di pali. Tra un palo e l'altro era tesa una rete a maglie finissime. Pressoché invisibili, le reti cominciarono quasi subito a dare risultati, intrappolando gli uccelli e facendoli cadere dentro file orizzontali di tasche ricavate nelle maglie. La dottoressa Kay aveva dato istruzioni che le reti non fossero mai lasciate incustodite e che i volatili venissero rimossi all'istante, per evitare che vi si aggrovigliassero troppo e per rendere l'esperienza meno traumatizzante possibile. Lei stessa tolse le prime tre ghiandaie imitatrici dalle reti, liberandole con la massima attenzione e al contempo tenendole saldamente in mano. Quando ricevette il permesso, Bug si dimostrò un talento naturale nel distrecare con delicatezza un uccellino e deporlo in una gabbia provvisoria. La ghiandaia di Coriolanus invece cominciò a gridare come se la stessero torturando nell'attimo stesso in cui la toccò e quando lui le diede una strezzatina per dissuaderla, quella gli piantò il becco nel palmo della mano. Di riflesso la lasciò cadere e in pochi attimi la creatura svanì in mezzo al fogliame. Animaletto malefico! La dottoressa Kay gli pulì e fasciò la mano e quello gli ricordò che Tigris aveva fatto lo stesso il giorno della mietitura, quando si era punto con una spina della rosa della signora nonna. Nemmeno due mesi prima. Quante speranze aveva avuto quel giorno e adesso eccolo a imprigionare discendenze di ibridi di volatili nei distretti. Passò il resto del pomeriggio a portare gli uccelli catturati sul camion. La mano non lo esonerò dal servizio volatili però, quindi tornò a pulire le gabbie collocate nell'hangar. Coriolanus cominciava a familiarizzare con le ghiandaglie chiacchierone. Erano davvero dei capolavori di ingegneria. In giro per il laboratorio c'erano alcuni dispositivi elettronici come quello della dottoressa Kay e i ricercatori gli permettevano di giocare con gli uccelli dopo che erano stati catalogati. Non sarà un problema, aveva detto uno. Anzi, sembra che apprezzino l'interazione. Bug non ne voleva sapere, ma quando si annoiava Coriolanus faceva registrare agli uccelli delle frasi sciocche e li faceva cantare passaggi dell'inno cercando di capire quanti riusciva a manovrarne con un solo clic del dispositivo. Certe volte arrivava a quattro se le gabbie erano vicine. Comunque stava sempre attento a cancellare quelle stupidaggini eseguendo un'ultima registrazione muta, tanto per assicurarsi che la sua voce non finisse nel laboratorio della cittadella. Smise del tutto con il canto quando le ghiandaie imitatrici cominciarono a rispondere, anche se gli dava una certa soddisfazione sentirle cinguettare le lodi di Capitol City. Non aveva modo di farle stare zitte e loro erano capaci di prolungare all'infinito un'unica melodia. Nel complesso cominciava a stancarsi di quell'infusione di musica nella sua vita. Invasione sarebbe stato un termine migliore, sembrava essere ovunque ultimamente. Canto di uccelli e covi. Forse non condivideva l'amore di sua madre per la musica, dopo tutto, o almeno per una tale quantità di musica. Assorbiva troppo la sua attenzione o la pretesa di essere ascoltata, il che gli rendeva difficile pensare. Quel pomeriggio avevano raccolto in totale 50 ghiandaie imitatrici, abbastanza per soddisfare la dottoressa Kay. Coriolanus e Bug trascorsero il resto del tempo a occuparsi degli uccelli e ad andare avanti e indietro portando le nuove ghiandaie al tavolo da laboratorio perché fossero numerate e inanellate. Si interruppero prima di cena e ripresero subito dopo per preparare gli uccelli al viaggio fino a Capitol City. I ricercatori mostrarono loro come fissare le coperture di stoffa sulle gabbie, dopodiché si trasferirono sull'Overcraft, certi che i due fossero in grado di occuparsi della cosa. Coriolanus si offrì volontario per le coperture. Bug trasportò gli uccelli fino all'Overcraft e diede una mano a sistemarli all'interno. Coriolanus iniziò con le ghiandaie imitatrici, felice di vederle partire. Spostava una gabbia alla volta vicino al suo banco da lavoro, agganciava le coperture, scriveva la lettera I e il numero dell'uccello sulla stoffa e passava il tutto. Bug stava uscendo con la cinquantesima gabbia, contenente una ghiandaia che cinguettava all'impazzata. Quando Sejanus apparve saltellando sulla porta per dire, in tono eccitato, «Buone notizie! Un'altra consegna da mia madre!» Bug, triste per la partenza degli uccelli, si rallegrò un po'. «È la migliore! Glielo riferirò da parte tua!» Sejanus guardò Bug allontanarsi, poi si girò verso Coriolanus, che aveva appena preso la ghiandaia chiacchierona catalogata con il numero uno. L'uccello cinguettava senza interruzione nella gabbia, copiando ancora l'ultima ghiandaia imitatrice. Il sorriso di Sejanus era svanito e un'espressione angosciata ne aveva preso il posto. Il ragazzo percorse l'hangar con lo sguardo per assicurarsi che fossero soli, quindi parlò con voce sommessa. «Ascolta, abbiamo solo qualche minuto. So che non approverai quello che ho intenzione di fare, ma ho bisogno che tu lo capisca, se non altro. Dopo ciò che hai detto l'altro giorno, sul fatto che siamo come fratelli, beh, sento di doverti una spiegazione. Ascoltami e basta, ti prego». C'erano arrivati allora, alla confessione. Gli appelli di Coriolanus al buonsenso e alla cautela erano stati valutati e giudicati insufficienti. L'entusiasmo mal diretto aveva avuto la meglio. E adesso era il momento in cui si sarebbe spiegata ogni cosa. Il denaro, i fucili, la piantina della base. Il momento in cui si sarebbe rivelato per intero il complotto sovversivo dei ribelli. Ma una volta sentito il piano, anche Coriolanus sarebbe stato praticamente un ribelle. Un traditore di Capitol City. Avrebbe dovuto cedere al panico, scappare o almeno cercare di zittire Sejanus. Ma non fece niente di tutto questo. Le sue mani agirono di propria volontà, come la volta in cui aveva lasciato cadere il fazzoletto nella vasca dei serpenti, prima di sapere che aveva deciso di farlo. In quel momento, la mano sinistra sistemò la copertura della gabbia con la ghiandaia chiacchierona, mentre la destra, che il suo corpo nascondeva alla vista di Sejanus, si abbassò fino al banco dove era posato un dispositivo elettronico. Coriolanus pigiò il tasto REC e la ghiandaia chiacchierona si ammutolì.